In occasione della giornata mondiale del bacio che si celebrata ieri 6 luglio il comune di Siculiana in collaborazione con la prologo del paese ha promosso il contest vasami, d'amore. Affetto eronico e materno, un bacio, un gesto di tenerezza che emette buon umore, consola, batte, barriere e rende complici. Nella città degli sposi il bacio diventa quindi il simbolo dell'amore. Per questo motivo Siculiana lancia il contest più romantico dell'estate, un selfie per esprimere il sentimento tra amanti, padri e figli, con l'animale domestico, con la nonna, tutto nella cornice di Siculiana. La città tra il borgo antico e il borgo marinaro di Siculiana Marina infatti è ricca di scorci, vicoli, spiagge e altri luoghi romantici. Il contest porterà gli innamorati a immortalarsi in un autoscatto dentro il contesto della città degli sposi per raccontare se stessi è un luogo. Vasami è un contest che coinvolge tutto il territorio comunale, ha dichiarato il sindaco Peppe Zambito, spetterà ai partecipanti scoprire gli scorci più suggestivi e i panorami più belli di Siculiana per immortalarsi e raccontarsi attraverso un bacio. Un motivo in più per raggiungere la città degli sposi, per promuovere l'iniziativa, sono state commissionate nove opere sul tema bacio all'artista locale Giuseppe Sinaguglia che verranno riprodotte e installate in diversi posti del comune di Siculiana. Il contest verrà presentato nel corso delle serate di apertura degli eventi estivi promossi dal comune di Siculiana il prossimo 16 luglio. La giuria selezionerà 12 selfie che verranno utilizzati per la realizzazione del calendario 2024 di Siculiana, città degli sposi, previsti anche premi e riconoscimenti per i partecipanti all'iniziativa.